E' partita nel segno della grande affluenza Hunting Show la fiera del settore caccia e pesca con molti progetti presentati dall'associazione Fondazione Cultura Rurale. E' una delle fiere più attese dagli appassionati di caccia e pesca. Hunting Show apre i battenti. Forte di un'indagine che concentra nel nord-est la maggioranza di persone favorevoli a un'attività venatoria normata, limitata, responsabile e sostenibile. Hunting Show fino a lunedì 10 febbraio inaugura il nuovo salone espositivo. 15.000 metri quadri di superficie dedicati a doppiette e carabine ma anche alla falconeria e alla passione per gli animali rapaci come questo esemplare di girfalco perlanario. Come sarà il cacciatore del futuro? Continuerà ad essere un gestore della fauna salvatica e dell'ambiente. C'è chi pensa di tutelare il territorio e la fauna salvatica imbalsamando il territorio mettendoci sopra una campana di vetro. Noi invece con la nostra conoscenza vogliamo creare le condizioni perché ci siano sinergie e perché quei patrimoni che siamo chiamati a gestire non sono patrimoni dei cacciatori o degli ambientalisti ma sono patrimoni dell'intera collettività. E così la fondazione per la cultura rurale Onlus illustra i progetti a cui stanno lavorando instancabili volontari nel Grappa hanno già trasformato malghe di roccate in centri didattici e ad aprile apriranno al pubblico l'incantevole bosco di due ville. Dei progetti molto interessanti che vengono realizzati attraverso la sinergia tra coloro che noi chiamiamo i portatori della cultura rurale quindi cacciatori, pescatori, agricoltori, allevatori e quella parte propositiva e non integralista del mondo ambientalista. Tutti questi soggetti che lavorano insieme per salvaguardare il nostro territorio e non solo per creare anche una serie di centri didattico-culturali che saranno rivolti soprattutto alle scuole per fare in modo che i nostri ragazzi possano conoscere l'ambiente che li circonda rispettando quindi sia la fanno salvatica che il nostro territorio.